Ragazzi allora buona Ari buona giornata a tutti E' finita la partita al 49esimo minuto Di gioco Juventus 2, Juventus under 23-0 Io continuo a ribadire il concetto Che non capisco l'invasione Cioè fra un po' non la giocano neanche la partita Cioè un conto era quando Si faceva l'invasione all'ottantesimo E posso anche capirlo ma Al 49esimo, al 48esimo Vabbè io Non capisco sta roba anche di farsi Non so ore e ore di viaggi per poi Fare l'invasione Comunque al di là di questo Partita finita 2-0 Ci sono alcuni spunti Nella mezz'oretta che abbiamo visto Insomma una formazione che potrebbe essere Anche titolare contro il Sassuolo Al di là di Ken ovviamente Che comunque Ken è squalificato E là probabilmente arriverà Kostic Credo E con Ken siccome cambiano le cose Perché con Ken È più Di Maria gioca più sulla tre quarti E oggi sono andati molto Molte volte per Per la tre quarti Ma anche le partite precedenti Vedo questo Diciamo questo voler giocare molto Sulla tre quarti Rispetto agli anni passati E approfittando appunto di Maria Come vi dicevo no Che per me di Maria lo vede un po' come l'isco Che non ha mai avuto Però le cose possono Potrebbero cambiare Qualora arrivasse appunto Kostic Se giocasse lui titolare non Ken Allora lì probabilmente Di Maria giocherà Comunque verrà dentro al campo Come faccia comunque il Paris Saint Germain Per carità Però comunque Giocherà più da esterno attacco secondo me A meno che Kostic non venga messo Tutta fascia Ma che poi alla fine faccia anche lui La seconda punta In fase di possesso Non lo so questo Perché comunque Ken parte dall'esterno Però si accentra per fare la seconda punta Molte volte Insieme a Vlaovic Vlaovic che ho visto L'ho visto molto sulle gambe La seconda partita ci sta Recupera da un infortunio Recupera dalla pubblicia Se non sbaglio Ha delle problematiche Ha il fisico possente Quindi ci sta E' un po' preoccupante Perché fra 10 giorni comunque inizia il campionato E non credo che in 10 giorni Si migliorerà sicuramente Ma non Ovviamente non Avrà la migliore condizione Questo poco ma sicuro E secondo me non se ne avrà Per un mesetto la miglior condizione Comunque per un paio di settimane Minimo Ma secondo me per un mesetto Quando sei attaccante Con quelle caratteristiche lì Secondo me ci vuole un po' Un po' più di tempo Di Maria l'ho visto anche Per carità ispirato Tecnicamente validissimo Però anche lui un po' Impacciato molte volte L'ho visto in queste In queste partite amichevoli Anche lui Un po' sulle gambe pure lui Cioè Tecnicamente ripeto Valido Però Gli spunti no Le accelerate Le progressioni Gli spunti da fermo Li ho visti poche volte Quelle volte che ha tentato di farli Si è un po' ingarbugliato Sul pallone In mezzo agli avversari Quindi non Per quanto riguarda Diciamo La tattica Della squadra Vedo che comunque C'è voglia Sicuramente di palleggiare Non Ossessivamente Dal basso Cioè nel senso che Partono dal basso Come hanno detto Alcuni giocatori Però comunque Non si disdegna Con quel lancio lungo Più che sull'attaccante O sull'esterno O sulla seconda punta Che parte dall'esterno Che è Ken O addirittura Il lancio lungo A tagliare fuori Tutto il centrocampo avversario Per andare direttamente Sulla tre quarti Dove appunto Può venire Ken incontro Può esserci Di Maria O può esserci La mezzala sinistra Che si può inserire Che oggi era Fagioli Quindi Questo ho visto un po' In fase di non possesso Ho visto un pressing Ultra offensivo Molto buono Ken era l'unico Che rimaneva un po' Più dietro Io se devo fare Il pressing Ultra offensivo Lo faccio con tutti Gli attaccanti Con Ken compreso Che mi va a pressare Magari il terzino Destro Avversario Con Vlauvić Che si occupa Dei due centrali Io farei così Perché se no Di Maria e Vlauvić Si fanno il culo Ken per timore Che magari venga scavalcato O quant'altro Parte da dietro E non è un pressing Secondo me Così tanto convinto Ecco Perché comunque Un giocatore loro Lo lasci giocare Tranquillamente Che è appunto Il terzino destro Poi quando ha il pallone Per carità Ken avanza Però Siccome subito Devi essere lì Pronto ad aggredire Poi saltato il primo pressing Si può anche stare Che tu Temporeggi Sicuramente Però con Un'intensità Maggiore Vorrei Perché comunque Cioè non puoi Fare il primo pressing Se ti taglia fuori Il primo pressing Tornare indietro E aspettare L'errore avversario Come abbiamo sempre fatto Con Allegri Io spero che Questo Anche questo migliori Con l'andare del tempo E Ripeto Fasi di possesso Fasi di possesso 4-3-1-2 Ok Strano Con Di Maria Che comunque Entra molto Dentro campo Fasi in un possesso Un 4-4-2 Con Ken Che comunque Scala Come ha lei Centro campo Ed è questa La cosa che a me Non piace E che Kostic Probabilmente Farebbe E io Sapete I moduli ibridi Non li amo Come è successo L'anno scorso Moduli ibridi Che si criticava Allegri Ema Cioè Si criticava Chi criticava Allegri Ema Allegri Usa questo modulo Ibrido Perché non ha i giocatori Quest'anno Che può sceglierli Però andate a vedere Il video Di prima Che ho caricato Oggi E capirete Alcune cose E alcuni E alcuni miei ragionamenti Questo è un po' Il quanto Poi per quanto riguarda Dopo Sono entrati Alcuni giocatori Vabbè Non sto qua Insomma è stata una partitella Così Locatelli ha fatto gol Ha fatto gol Bonucci E basta Cioè Per il resto I tre davanti L'ho visto un pochino Così Cioè Un po' Appesantiti Se devo essere sincero Ho visto Discretamente Zaccaria Solo che Tecnicamente Ragazzi Io Su Zaccaria Cioè Zaccaria Mi deve fare la riserva Se abbiamo tutti gli effettivi Zaccaria Mi deve fare la riserva E basta E Locatelli Vabbè Normale Siccome Se ha Due giocatori In parte Due mezzi anni In parte In parte Tecniche Siccome Può fare il suo Anche Da Centrocampista D'ordine Oltre che Appunto Da Incontrista Gatti Entrato bene Però Comunque Ricordiamo Che era Lander 23 All'altra parte E Troverai squadre Che si chiudono meglio In Serie A In Champions League Troverai squadre Che ti pressano di più Poi Non mi è piaciuta L'intervista di John Elkan A fine primo tempo Perché sa Tanto di giustificazione Per Allegri Nel caso in cui Dovesse Non vincere lo scudetto Perché il campionato Ha detto È più Equilibrato Come l'Europa Sì L'Europa è più Equilibrata Però il problema Vostro Proprietà Società E quant'altro È che Si è abbassata la qualità In Italia Negli ultimi anni E anche in Europa Ed è vero Ma il problema Ma il problema È che Quando si è abbassata La qualità In Europa Noi Non ci siamo lì Non ci siamo stati lì Per competere Per tentare di vincere La Champions League Poi non si può dire Abbiamo sfortuna Se becchiamo il Barcellona Migliore al mondo Della storia Real Madrid E quant'altro Perché quando L'Europa Quando la qualità europea È calata Tu non sei stato lì Tu non avevi la squadra Che ha avuto Berlino Adesso Perché con quella squadra lì Probabilmente te la giocavi Per vincere la Champions League Questo è il problema Di società Allenatore Giocatori Mentalità dei tifosi Che non riescono A vedere in là Non riescono a criticare Perché va sempre difesa La Juventus Società Le colpe sono queste Principalmente Al di là di Barcellona E la Madrid Che le abbiamo perse Il problema è che Quando poi La qualità europea Si è abbassata Tu non sei stato lì Quindi Questa per me È un aggravante Perché Lo scudetto deve essere il minimo In questo momento qua Non siamo comunque i favoriti Ma lo scudetto deve essere Il minimo Per Allegri E per la Juventus Il minimo Cioè Col campionato mediocre che c'è Se tu punti a vincere sempre Lo scudetto Italiano Lo vinci automaticamente In questo momento qua Come la Bundesliga Come la Ligue 1 Ok Questo è Fine Io Ste parole qua A me non piace Poi c'è un Elkan ragazzi Non capisce un cazzo di calcio Cioè Ne so che È lì È bravo È un bravo imprenditore È quello che vogliamo Ma di calcio Non lo so Non lo so Vabbè Lui guarda i suoi interessi economici Più che quelli sportivi Lo sapete benissimo Cosa penso della proprietà nostra Che Arriveremo ai 100 anni Io spero Prima o poi Che arrivi una proprietà Se non proprio al 100% Ma Che abbia la maggioranza Che voglia puntare Portare Riportare La Juventus Sul tetto del mondo Ma ogni anno Come una delle squadre più temibili A livello europeo In Champions League Questo io temo O la Super League Se si dovesse fare Questo io voglio Questo io voglio Detto questo Ragazzi Vi auguro Buona giornata a tutti Ditemi cosa ne pensate Questa partitella Di un tempo Probabilmente Di 45 minuti Qua sotto Fino alla fine Sempre comunque Forza di Vento Sulla prossima partita Sarà domenica sera L'ultima partita Prima Dell'inizio del campionato Dell'inizio Quindi delle partite ufficiali Che ricordiamo Inizieranno per noi Lunedì 15 agosto Alle ore 20.45 Contro il Sassuolo In casa nostra Domenica 7 agosto Alle ore 20.45 A Tel Aviv Contro l'Atletico Madrid E lì faremo ovviamente Il video post partita Serale Ciao a tutti E alla prossima